Negli ultimi anni, col nostro istituto scolastico Andrea Fantoni di Clusone, abbiamo deciso di includere nel nostro corso di studi alcuni progetti legati alla promozione del territorio locale della Val Seriana. In questo caso abbiamo scelto il comune di Ardesio, con la rappresentanza del pittore Alessandro Bonvicino, detto Moretto, che è storicamente conteso tra il comune di Ardesio e il comune di Brescia. Abbiamo appunto scelto questo pittore perché quest'anno ricorre il 520esimo anniversario della sua nascita e abbiamo selezionato alcune delle sue opere che sono presenti in importanti musei internazionali e abbiamo creato una mostra presente all'interno del paese che accoglierà alcuni visitatori. Allora, contemporaneamente abbiamo contestualizzato questa esperienza col comune di Ardesio, di cui abbiamo studiato i monumenti e le opere principali. Tutto ciò ci è stato possibile grazie al supporto dell'Associazione di promozione locale Vivi Ardesio, la quale ci ha fornito il materiale necessario per poter realizzare al meglio questa giornata. Il nostro lavoro è stato suddiviso in tre gruppi principali, il primo situato al santuario di Santa Maria delle Grazie, il secondo alla mostra del Moretto e il terzo effettuerà un percorso culturale lungo le vie del centro storico di Ardesio. Saremo lieti di accogliere i visitatori il 19 maggio a partire dalle ore 10 alle ore 12, il primo gruppo, e il secondo a partire dall'una e mezza alle 5 circa. È un'ottima occasione questa per poter conoscere e ammirare le opere di questo artista conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero. In particolare le sue opere sono conservate al Museo del Louvre. Riguardo sempre a quest'ambito abbiamo anche creato dei dépliants in lingua francese e questo nostro progetto, questa giornata, si chiamerà Ardesio in Tour. Il gruppo presente al santuario accoglierà i visitatori illustrando in particolare le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'edificio facendo riflettere in particolare sull'importanza del miracolo avvenuto nel 1607. Contemporaneamente alcuni miei compagni saranno disponibili ad illustrare a coloro che saranno interessati il funzionamento dell'audioguide fornita dal comune di Ardesio. Il gruppo che si occuperà del giro turistico per Ardesio accoglierà i visitatori alle ore 10 circa di sabato 19 maggio in piazza Montegrappa, quella di fronte al comune. Insieme ad alcuni dei miei compagni di classe ci occuperemo di accompagnare i visitatori per la storia del comune di Ardesio e ci soffermeremo in particolar modo su alcuni dei principali monumenti a livello storico e artistico. Insieme a noi classe quarta del turismo dell'Istituto Fantoni chi ha già visitato il paese avrà appunto l'occasione di rivisitarlo insieme a noi mentre chi non l'ha mai visto potrà visitarlo e apprezzare Ardesio appunto per la sua storia e per le sue bellezze che lo caratterizzano. In occasione dei 520 anni dalla nascita del Moretto un gruppo di ragazze ha deciso di allestire una mostra con le rappresentazioni dei quadri più importanti e alcuni di questi quadri verranno esposti in lingua straniera proprio per rimanere sulle tracce del nostro indirizzo turistico improntato per lo più sull'arte, sulla geografia e sulle lingue.